Il banchetto dei doni del Signore è universale per tutti, a tutti è data la possibilità di rispondere alla sua chiamata e questo ci induce a vincere l'abitudine di collocarci comodamente al centro, come facevano i capi dei sacerdoti e i farisei, per aprirci alle periferie, riconoscendo che anche chi sta ai margini, chi è rigettato e disprezzato dalla società, è oggetto della generosità di Dio. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, ha commentato la parabola di Gesù dell'invito al banchetto di nozze, inserita nel Vangelo Domenicale. Tutti siamo chiamati a non ridurre il regno di Dio nei confini della chiesetta, ha aggiunto il Papa, perché non serve, ma a dilatare la chiesa alle dimensioni del regno di Dio. L'unica condizione è indossare l'abito nuziale, cioè testimoniare la carità concreta a Dio e al prossimo. Dopo la preghiera dell'Angelus, recitata insieme a più di 40.000 fedeli riuniti in piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato la beatificazione a Sassari del frate minore conventuale Francesco Zirano, che preferì essere ucciso nel 1600 in Algeria piuttosto che rinegare la fede. La sua coraggiosa fedeltà a Cristo, ha detto il Papa, è un atto di grande eloquenza, specialmente nell'attuale contesto di spietate persecuzioni contro i cristiani. Quindi ha parlato del nuovo dramma di Genova. In questo momento il nostro pensiero va alla città di Genova, un'altra volta duramente colpita dall'alluvione. Assicuro la mia preghiera per la vittima e per quanti hanno subito gravi danni. La Madonna della Guardia sostenga la cara popolazione genovese nell'impegno solidale per superare la dura prova.